Buongiorno a tutti e bentrovati a questa giornata importantissima domenica venti novembre duemila ventidue la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza abbiamo con noi un ospite d'eccezione il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale che siamo onorati di ospitare e ringraziamo per la sua disponibilità e questa giornata particolare dottor Marziale è necessario ecco fare un po' il punto anche in riferimento alla questione infanzia adolescenza collegata alla scuola un tema essenziale perché la scuola è un'agenzia educativa fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri adolescenti dei nostri bambini che diventano adulti attraverso la scuola ecco la prima domanda che le vorrei fare rispetto proprio a questa giornata fondamentale importantissima sono che dai dati forniti dalla direzione centrale della polizia criminale si registra un aumento del 54 per cento dunque di una importante percentuale degli abusi su minori all'interno delle scuole dunque c'è una cronaca che ci racconta di situazioni veramente eh di che fanno dispiacere ora lei che già per la seconda volta eh ricopre questo incarico proprio in Calabria perché ha avuto già un'esperienza passata come eh garante per l'infanzia ecco cosa pensa e soprattutto se eh ha il polso della situazione rispetto a questa terribile eh percentuale che le ho appena detto intanto professore Ficara grazie a lei e alla tecnica della scuola di avermi voluto ospitare in un giorno così importante la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia guardi il polso purtroppo c'è nel senso che sono aumentati esponenzialmente gli abusi sui minori sono aumentati dentro le famiglie sono aumentati dove c'è aggregazione minorile eh mi riferisco a società sportive o comunque associazioni che inglobano bambini non poteva non aumentare anche all'interno della scuola purtroppo io non ho il dettaglio di cosa avvenga e quanto sia proporzionato in realtà il fenomeno all'interno della scuola certo è che i dati forniti dalla polizia si riferiscono ai dati denunciati e noi conosciamo quanto grande possa essere la forbice eh tra gli episodi non denunciati e quelli denunciati quindi eh non c'è dubbio che il fenomeno è complesso certo far rabbrividire perché quando parliamo di abusi all'interno della scuola noi parliamo di violazione di un santuario perché se è vero che esiste il garante per l'infanzia dopo la famiglia comunque il primo garante è la scuola e quindi noi parlando della scuola parliamo di una istituzione che dovrebbe rappresentare sacralità rispetto alla tutela del minore e l'abuso non è soltanto sessuale perché l'abuso è anche di maltrattamento psicologico e di altre forme di maltrattamento diciamo anche perché poi il dire spesso scatena tautologie populismi che sono lontani dal nostro modo di leggere la realtà che la stragrande maggioranza delle scuole italiane è eh dignitosamente mh eh si rapporta dignitosamente con il minore con dunque la centralità del bambino però ci sono molti casi ancora laddove avvengono dove si tende di mettere a mettere la polvere sotto il tappeto e questo certamente non fa il bene della scuola perché se c'è una mela marcia eh intorno a mille mele sane la mela marcia tende a a a a far marcire anche le altre quindi spero di essere stato molto chiaro professore ma quello che mi interessa sapere da lei dottor Marziale perché è importantissimo quello che lei dice il suo ruolo il ruolo del garante dell'infanzia a livello regionale ma poi anche a livello nazionale e cosa può fare il garante quali sono i poteri del garante rispetto a situazioni e diciamo eh che anche se possono essere marginali e speriamo che lo siano e non diffuse ma nel momento che il garante ha una denuncia rispetto a un maltrattamento del minore in una scuola cosa può fare quali azioni può mettere in campo allora la prima cosa da farsi è contattare il responsabile dell'istituto e chiedere chiarimenti se questi chiarimenti convincono il garante iniziare un'opera di eh verifica insieme al doce al dirigente e stimolare il dirigente a fare il suo perché non è che il garante sostituisce il garante stimola laddove c'è bisogno di stimolare in questo caso dovrebbe essere già il dirigente ad avere informato le autorità preposte ma purtroppo ci sono dirigenti che lo fanno diligentemente ci sono dirigenti che non l'hanno ancora fatto allora il garante supplisce a questa lacuna cioè nel senso se c'è una denuncia se ci sono segnalazioni ben chiare se c'è nero su bianco e tu non hai provveduto ad a informare le autorità preposte le informa il garante quindi in qualche modo l'attività del garante è quello proprio di garantire che la violazione del diritto venga debitamente perseguita e poi seguire tutte le fasi finché non entra in opera la magistratura perché quando la magistratura acquisisce gli atti e dà avvio al procedimento l'operato del garante si ferma proprio per non generare in proprie intromissioni e scontri di competenze con la magistratura che in quanto poi ad acquisire informazioni fare ispezioni e stabilire un'eventuale causa non entro alle processo è sovrana perfetto senta una recente indagine di demopolis sulla povertà educativa minorile fa emergere un dato preoccupante 80.000 studenti bocciati per le troppe assenze subito dopo l'emergenza covid lei pensa che il covid abbia inciso profondamente sulla psicologia dei diciamo dei bambini degli dei bambini un po più grandi anche di quelli di età di scuola secondaria e cosa potremmo fare per recuperare questo che possiamo dire abbandono scolastico anche se non definitivo però è molto preoccupante 80.000 diciamo minori che abbandonano la scuola è un dato che ci deve fare sobbalzare dalla sedia professore il covid ha i suoi effetti assortito effetti su grandi e piccini non è che anche docenti presidi genitori siano stati incolumi dal subire ricadute emotive però vede dietro l'abbandono scolastico non può esserci la pandemia dietro l'abbandono scolastico c'è ben altro c'è disagio psicosociale diffuso c'è povertà ci sono bambini per esempio in italia che non vanno a scuola perché i genitori sono malati e provvedono loro a lavorare e quindi voglio dire le cause dell'abbandono scolastico dire che solo pandemia sarebbe da parte noi a nostra artificioso e superficiale sulla abbandono scolastico io darei maggiori responsabilità alla povertà e allo stato di scarsità di economie in cui versano determinate famiglie guardi non le dico dove ma mi è capitato che i carabinieri mi abbiano informato di avere fermato due bambini minorenni che vendevano frutta con una lambretta era per loro non c'era autorizzazione guidavano il mezzo senza avere la patente però poi alla fine grazie alla collaborazione dell'umanità grandissima dell'arma dei carabinieri abbiamo appurato che questi due bambini avevano il padre paralizzato e la madre malata allora io mi chiedo perché non scattano le verifiche bisogna che capiti una pattuglia dei carabinieri perché noi ci si renda conto di cosa avessero questi bambini a casa e allora bisogna essere tempestivi nel denunciare l'abbandono scolastico la dispersione scolastica e mettere in condizioni le istituzioni anche quelle previste come ammortizzatori sociali quindi di innescare eh possibili via di riscatto di questi bambini di agire subito e io ricordo una riunione in fausta con il presidente del tribunale per i minorenni di Bella che ora è a Catania ma all'epoca era a Reggio Calabria quando facemmo una riunione sulla dispersione scolastica invitò circa cento presi di vennero dodici e quindi questo è un dato che io posso anche certificare e che non è un'opinione ma è una eh presa d'atto di come purtroppo convocati dal garante dal presidente del tribunale per i minorenni su una riunione così importante abbiano preferito la stragrande maggioranza fare altro e questo per me eh va detto. Eh va detto sì effettivamente poi i dati statistici parlano di una dispersione molto più intensa al sud Calabria compresa Sicilia, Campania, Puglia rispetto al nord. Mi ha molto colpito un suo post Facebook proprio recente forse di ieri o dell'altro ieri dove si faceva proprio riferimento a un dato di della eh Salve Children che eh dove l'infanzia del sud e della Calabria ha un'aspettativa addirittura di vita ridotta rispetto ai bambini del Trentino Alto Adige. Immagino che questo sia collegato forse anche a una povertà educativa minorile che colpisce alcune fasce diciamo di famiglie disagiata che soprattutto per il reddito pro capite vive al sud Italia? Professore la risposta è sì perché la povertà genera malattia. Bambini che non hanno il minimo indispensabile, l'elementare, eh poi è è grande il rischio che si ammalino. Bambini che vedono gli altri giocare a pallone loro non possono avere neanche una palla bucata e genera malattia e poi mettiamo a questo anche la mancanza strutturale. Non abbiamo ospedali, abbiamo il novanta per cento delle scuole calabresi che non ha il decreto di agibilità. Avremmo bisogno di palestre, avremmo bisogno di eh so che questa mattina ehm voglio dire in molte parti d'Italia eh si celebra questa eh giornata. Ecco vorrei dire non è una festa. Eh vorrei dire è un momento per ricordarci che abbiamo bisogno di eh cose fondamentali, strutturali, elementari. Eh ci sono scuole che non possono fare laboratorio perché hanno aule eh nelle palestre quindi le palestre diventano aule per forza e loro non si possono esprimere. Eh insomma se facessimo un elenco delle cose che determinano questa forbice tra bambini del di Bolzano e bambini bambini calabresi i primi che hanno un'aspettativa di vita in buona salute superiore di dodici anni se poi rapportata alle femminucce di quindici anni e dobbiamo mettere tante di quelle cose insieme che dovrebbe la tecnica della scuola lasciarci parlare per una settimana. Invece eh vi ringrazio ringrazio lei l'amicizia e la stima che ci lega professore non è neanche un mistero perché ci conosce eh la tecnica della scuola sempre disponibile ad accogliere anche gli elementi critici perché quello che ci accomuna professor Ficara è proprio la critica intesa come mattone costruttivo perché laddove mettiamo mattoni che devono andare bene per forza prima o poi crollano se invece prendiamo le misure del mattone e mettiamo il mattone nella giusta misura scusate il gioco dei termini io penso che da guadagnarci ne abbia non solo la scuola ma la società in divenire. Sono convinto sono convinto ecco chiudiamo questa intervista con una domanda di carattere personale ma professionale cosa qual è la eh cosa più bella nella sua memoria nell'esperienza di garante dell'infanzia della Calabria che ha potuto fare e rivendicare per il bene dei bambini e per il bene degli adolescenti. Ma guardi eh la terapia intensiva pediatrica perché era l'unica regione la Calabria a non averla eh mi sono interfacciato con l'allora commissario straordinario alla salute l'ho chiesta l'ho ottenuta il rammarico che l'ho ottenuta complessa quindi un reparto dedicato professionisti dedicati a autonomia operativa invece non si sa per quale motivo eh nel tempo abbiano pensato di lasciarla semplice però sono passate decine e decine di bambini che si sono salvati eh prima di tutto dal fatto che i genitori magari non potevano permettersi economicamente un trasferimento a Roma, a Napoli, a Milano altrove. Seconda cosa che hanno fatto in tempo ad arrivare in terapia intensiva e quindi salvarsi quindi non c'è dubbio che il fiore all'occhiello non della mia attività, il mandato del garante, della mia vita e sapere che anche un solo bambino possa salvarsi per una cosa che non c'era e che io ho stimolato. Ottimo. Grazie della sua presenza qua alla. Grazie a lei professore. Tecnica della scuola speriamo di poter affrontare queste tematiche che che riguardano molto il l'ambito proprio dell'infanzia, dell'adolescenza ma della scuola collegata alla scuola io la ringrazio e la saluto alla prossima volta. Io la saluto, la ringrazio e credo che abuserò molto della sua professionalità, questo lo sappia perché lo dico pubblicamente. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.